Buongiorno, oggi martedì 15 dicembre siamo qua con Stefano Micheletti, direttore del teatro viaggiante I Guitti, che ha portato in scena il secondo spettacolo della stagione giovani qua al teatro sociale di Mantova, raccontandoci e facendoci rivivere la storia di Rosso Malpelo. Allora innanzitutto volevo chiederle un pochino sulla storia della compagnia, quando è nata, come vi muovete, come siete organizzati. La compagnia nasce nel 1888, è una delle sopravvissute compagnie teatrale che vantano questo retaggio. Io sono figlio d'arte, famiglia Micheletti-Zampieri e siamo riusciti a sopravvivere al tempo, lavorando in teatri prestigiosi come questo, affittando gli spazi, pagando tutti e mai senza un contributo. Questo è bello da dire perché siamo una mosca bianca su questo. E ci muoviamo con la grande organizzazione di mio fratello Marco, che è capace di procurarci 50-60 spettacoli per semestre. E lavoriamo con scritturati che provengono dai teatri del piccolo di Milano, piuttosto che le accademie dei filodrammatici. Questo è quanto. Questa mattina infatti abbiamo visto questo spettacolo che è stato proposto in particolar modo per le scuole, quindi per ragazzi molto giovani. E volevo sapere, com'è pensare di costruire questi spettacoli per un pubblico di ragazzi così giovani? Quindi immagino sia anche un pubblico difficile da coinvolgere e di cui mantenere l'attenzione. Certamente, come io dico, è più difficile lavorare per i ragazzi delle scuole che neanche per il pubblico serale, perché negli adulti c'è permesso qualche spazio in più, sono più generosi. Mentre invece l'attenzione dei ragazzi deve essere costantemente tenuta sulla scena, con una metrica recitativa incalzante, come dico io. Poi, a dire la verità, se passi uno spettacolo per le scuole, poi sono relativamente giovani, questi sono liceali, sono scuole medie e superiori, perché dicevo se riesci a passare uno spettacolo come questo di stamattina, ma come quelli che abbiamo sempre fatti, quindi di altissima qualità per le scuole, poi puoi andare in pubblico serale che è in discesa. Tant'è che i nostri spettacoli, come la locandiera che facciamo per le scuole, poi vanno in serale, ma lo stesso Rosso Malpelo, pur essendo particolare come novella e inedito, proprio nostro, come testo, io l'ho proposto in serale e, insomma, dicevo prima, ormai il dado è tratto in quel caso. Il prossimo spettacolo che vedremo, di cui saremo ospiti, diciamo, qua a Mantova, è il 23 febbraio, così è, se vi pare, di Pirandello. Anche quello è un titolo assolutamente conosciutissimo, però un po' diverso, diciamo, come genere rispetto a Rosso Malpelo di Verga, che abbiamo visto questa mattina. Ci sono differenze nell'affrontare queste due categorie, diciamo, di spettacolo? Ma la differenza sostanziale che mi viene da dire per i tecnici e per gli studenti, se vedranno questo video, sta nella poetica degli autori, che quando viene espressa è certamente diversa. Verga ha una poetica diversa da quella di Pirandello. La seconda considerazione che mi viene, quindi, a seguire è quella dell'interpretazione, un po' più psicologica per quel che riguarda Pirandello, un po' più spontanea per quel che riguarda il Verga, per il suverismo e per quel tardo romanticismo che ancora offre, soprattutto nella novella che abbiamo presentato stamattina. Per il resto ho fatti tanti Pirandelli che anche questo immagino che abbia delle linee curiose da seguire e sarà attuato sempre con un'attenzione allo spazio, al tempo, alle indicazioni dell'autore. Non stravolgiamo mai il testo, siamo sempre vicini a quello che ci dicono, in sostanza. Va bene, allora, questa mattina il teatro era affollatissimo ed è andato molto bene come rappresentazione, quindi siamo sicuri che anche per lo spettacolo di febbraio sarà un successo e ci rivediamo quindi il 23 febbraio. Volentieri, grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.